Ben ritrovati a tutti gli amici della pesca, oggi fa un caldo infernale, quale miglior modo se non andare a pescare in uno dei fossatelli della montagna? Il video di oggi sarà un video o tutto o nulla, in quanto mi sono ricordato di un piccolo torrente, molto molto piccolo, nel quale volevo andare a pescare ormai da molto tempo. Non ci ho mai pescato, non so se ci sono trote, probabilmente questa introduzione sarà inutile, ma spero di ricevere delle ottime sorprese. Ci vediamo in pesca. Questa troterella morta è un buon e un cattivo segno. Buono perché significa che su questo fosso qualche pesce c'è. Cattivo perché potrebbe essere dovuto a un pescatore che non ha fatto bene il suo lavoro nel rilascio della trota, oppure al fatto che le trote qui stanno morendo per qualche motivo. Speriamo bene. La vedo buia, la vedo buia. Spera, mamma che bella. Spera, mamma che bella trota è uscita da questo fosso. Ora la rilasciamo. Ma va, qualche pesce c'era. Minchia Spider-Man. Altro che Spider-Man che toccassi è una capra di montagna. Vabbè, la faccio lunga, mia. C'era. 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 Un'altra piccola pario. Queste sono degli ottimi segnali per torrenti come questo. Significa che i pesci si riproducono anche perché non sono d'allevamento. sono degli ottimi segnali per torrenti come questo, ma non sono d'allevamento, ma non sono d'allevamento, ma non sono d'allevamento, ma non sono d'allevamento. Comunque, due belle fatture sono uscite, contro ogni pronostico, diciamo che non mi posso lamentare. E' anche un bel posto da pescare, questo forse con più acqua, e le trote purtroppo sono stanche, tirano poco, anche... Aspetta l'ho aperto, piccina era, ho provato a mangiare. Volevo dire, anche se le trote, diciamo, qui ci sono, sono stanche per via del caldo, infatti anche se le slamo subitaneamente, grazie all'uso di questo amo molto grosso, che permette per l'appunto che non ingolino completamente l'esca, per ripartire ci mettono un po', con un po' stanche. Ciao, ciao! bellina ma che bei colori scurita la lasciamo subito vedete sono molto stanca per tornare ci mettono un po però 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 le trotti ci sono sono contento di questo è anche un fiume che sembra non aver patito la forte siccità che altre torrenti invece delle mie parti hanno sofferto sono quasi le sorgenti di questo fosso e ancora si trovano trochi piccolina ma qualcosa ce n'è bella questa bella micidiale bella 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 mamma mia mamma mia questa direttamente alla sorgente proprio quasi mamma mia che pesce la prima è proprio di qui guarda che pesce vai torna a casa cazzo non cazzo E' veloce, eh? Ah no, l'ho persa! Qu'est-ce qu'il y a l'hôtel? 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 Bello! Bel pesce! Bello, bello, bello! Bello, pesci sani, qui sono tutti piani di forza che l'acqua è molto più fresca. Vai, bella, torna a casa! Yeah... Si! ... ... ... Grazie a tutti.